Io una volta sono entrato per sbaglio nel camerino dei Cildro e Noboto Sì? Mi sono cagato addosso Perché? E stavo cercando Massaro in un concerto Cosa stavano facendo? Si stavano vomitando addosso? Era tutto buio con delle candele e si stavano preparando, pensi Ci ho avuto grossa paura Però sono bravo Ottima band